Un buco di oltre 100 milioni di euro mai ripianato che getta un'ombra sulla regolarità dei bilanci dell'azienda ospedaliera di Ferrara per la costruzione dell'ospedale di Cona e che potrebbe aver avuto un peso rilevante anche nel falimento di Carife. E quanto sospetta il Movimento 5 Stelle la cui capogruppo in regione Raffaella Sensoli ha illustrato alla stampa gli esiti di un'indagine partita da una documentazione ricevuta in modo confidenziale e fatta di interrogazione, accessi agli atti e interpellanze sulla situazione del nuovo ospedale ferrarese. A noi non risultano le coperture della regione da parte di questo buco che si è creato, che si aggira intorno ai 100 milioni di euro. Sono state date delle anticipazioni di cassa dalla loro tesoreria dell'azienda ospedaliera Carife e vogliamo sapere anche quanto questo buco ha inciso sul fallimento di Carife e quindi sui danni subiti dai cittadini. In sostanza il buco si riferisce da un lato al mancato finanziamento che l'Inel nel 2009 si era impegnata a versare nelle casse dell'azienda ospedaliera per la realizzazione di Kona, più di 65 milioni di euro in cambio dell'acquisto di una parte della struttura. Soldi però mai arrivati e quindi anticipati dalla Carife perché nel 2012 l'Inel ha deciso di non procedere più all'acquisto dell'immobile per una presunta incapacità antisismica della parte della struttura realizzata da copcostruttori di Argenta. Una decisione contro la quale e l'assenso li chiede alla regione come mai non è stato presentato ricorso pur avendone diritto visto che in realtà le contestazioni fatte da Inail per recedere dal preliminare non erano fondate. L'altra parte di denaro a cui il Movimento 5 Stelle si riferisce è quella relativa alla mancata vendita del vecchio ospedale Sant'Anna. 30 milioni di euro, anche questi allora anticipati da Carife. Ma gli interrogativi che il Movimento 5 Stelle rivolge alla regione con l'interrogazione presentata, nella speranza, sottolinea la Sensoli, di essere smentiti perché vorrebbe dire che i cittadini non hanno subito un danno, verranno presto rivolti anche alla magistratura. Avete detto che volete anche presentare un esposto? Sì, 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 sicuramente presenteremo un esposto perché chiaramente noi abbiamo dei dubbi, abbiamo chiesto alla regione, siccome tra i dubbi c'è anche quello di eventuali irregolarità contabili all'interno dei bilanci dell'azienda ospedaliera, faremo un esposto e chi di dovere ovviamente farà le verifiche.